Per me qui è sentirmi normale tra i normali. Mi manca qualcosa se non vengo la domenica sera qua. Mi trovo come in famiglia, vengo proprio veramente volentieri. Mi sento a casa. Alle 7.20 sono già fuori, che aspetto, che aprono i battenti. Tutte le settimane, anzi le lavo io le magliette. Ciclo delicato, quello per lana delicato a mano, asciugatura in piano e stiro a rovescio. Don't be in love with the autograph, just be in love when you scream that song. Come together. Come together. Ciao. Grazie a tutti